ciao ragazzi benvenuti su play game anche oggi insieme a voi giocheremo a super mario deluxe perfetto vi ricordo che questa è la terza puntata le precedenti le troverete qui sotto che dice arianna iniziamo prima la sigla eccoci arianna allora per affrontare il secondo livello di mario bros io prendo il personaggio mario io tanto per cambiare tu sempre la principessina comunque se notate nelle precedenti puntate anche la prima che abbiamo fatto ho detto to to detta invece to ha detta anche ora l'ho detto to detta e scusate to ha detta si chiama siamo arrivati al castello benissimo nuovo schema nuovo mondo da esplorare mondo calduccio deserto delle torte bellissimo si chiama c'è ogni giorno che si mangiano le torte anche qua c'è un brutto ceppo di buzzer quindi dovremmo puntare ce ne sono due addirittura fino a riguardo al castello finale quello vedi cosa ti piace a te andiamo essere guilty e attenta no 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 è la stopраш saluta salta salta saluta alar noo no 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 closed salta. si ho fatto una quadrata però che ho prese fuocoa l all sm Fayt di a lì perchè non ce la farai così ma ce la fai leography guarda, attento papà, oh mannaggia, ma tu ti sei fatta fregata questo funghettino, vai, la corona per te, vai, non fai niente, aiuto, vai la, vai la, vai, tenta la tartarugina, guarda, all'argio qua, faccio strike, guarda, bravissima, no, guarda, guarda se mi ha fregato, la tartarugina di prima, guarda, ah, bello questo, stai venendo? bravissima papà, perfetto, perfetto, tutto bene, vai, ok, guarda, tu che hai l'abilità del volo, vai a prendere la moneta, aspetta, devo fare una cosa, togliti, metti qua, devo fare una cosa bellissima, che me l'hai rovinata, vai, sì, yuhuuu, l'abbiamo preso insieme, attenta, attenta, c'è un, oddio, che ha fatto la mia, si è fatto all'ultimo secondo proprio, le piante carnivore, che fanno, mordono il culetto, ti ricordi l'altro Mario papà, una volta abbiamo esplorato l'altro Mario, che c'era, che, boiser, ah no, non abbiamo, sì, scusate ragazzi, se parlo delle cose che non abbiamo fatte insieme, eh, loro non possono saperlo, eh, non possono, dobbiamo saperlo solo nei due, ma poi un giorno ci giocheremo, ok, ok, vabbè, quello non fa niente, c'è, no, ti dovresti, vai, saltavolo pure, qua ci vuole qualcuno, no, se vuole fare un bel nulla, un colpo di culetto, un colpo di culetto, attenta, per fortuna mia, vai via, e vi do il colpo di culetto, ecco, era un funghiacchino, non capito, si perdeva una pescina, dai, bandierina, salto, salto, e risalto, salto, salto, questo è molto difficile, vado, vado qua, se tu vuoi puoi fare bolla, se tu vuoi puoi fare bolla, si eviti i funghi, ah, andiamo in quel, quello intanto io ci arrivo, eh, io sono bravissima a fare queste cose, no, ci arrivo senza il tuo aiuto, grazie, ok, dai, provoci la sola, però adesso devo aspettare, ah, diciamo, sale il tornado di sabbia, bolla, eh, non ci, non ci si, potremmo, serve un altro bocchetto, oh, eh, giusto, giusto, eh, ma io fa, ah, quella la posso fare, dai, allora io faccio così, no, papà, perché devo fare bolla, ah, volessi e volevi fare la tua bolla, eh, si, tu stai qua sicuro, qua, si, ma è molto sicuro, non ti tocca né quello né nessuno, ok, io quella, la prendo, però quando non c'è, cosa strana però la devo fare quando non c'è la cascata, papà, adesso siamo pure tutti i due piccolini, ma sembra che lo fai apposta, peggio di così non poteva andare, eh, peggio di così non poteva ore, no, no, no poteva andare, ok, guarda sembra può anche andare peggio di così non siamo giustamente tutti i due piccolini, io, no, si ah, 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 ah ah, senti guarda che io fa bolla l'ho fatta bolla la tartarugina l'ha fatto fuori me papà la tartarugina l'ha fatto fuori me ma ti vuoi concentrarmi un attimo un secondo ma la tartarugina ne ha fregato in questa bandata neanche abbiamo fatto un un livello assolutamente no allora dai adesso però lo prendo io e tu l'hai presa e non ne hai presa neanche niente oh allora che senso ha andiamo oh ecco lo prendiamo pure forza senta arriva la sabbia fatevi sotto chi si avvicina faccio questo faccio questa faccio ho fatto una scivolata incredibile papà ma è troppo difficile questo pezzetto perché guarda ok allora la parte difficile è stata superata in maniera grigia guarda quella tartarugina guarda che cosa vero ma è abbastanza difficile questo schermo e questo schermo sa cosa ci servirebbe la corona è la corona logicamente qualcuno l'ha fatta per anzi forse ce ne abbiamo nel il oggetti non ci facciamo nulla ci dobbiamo fare con le nostre forze senza utilizzare i getti burros praticamente guarda l'hanno fatto mentre prima era semplice questo l'hanno fatto veramente difficile hai fatto bollo o sei capo se capo però lo prendo io quello perché tu non prendi niente da lì via tu dovevo dovevi fare che bene riproviamoci dai bene io sono morta e fai la bolla 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 allora io direi guarda evito la io ce la faccio a fare la moneta tu vai tranquillo non so fare niente aspetta che arrivo perché ho dovuto fare la bolla aspetta che arrivo che ho dovuto fare la bolla ma papà non so perché io ce la faccio vedi vedi qua se c'è la corona corona? no però si dai questo è bello ok facciamo questo cappellino via se tu vuoi la fai tutta la particolazione dove? di qua su fai una scherciata prova fare la bolla io non faccio la bolla non mi chiedo fa la bolla ora perfetto vieni qua vieni qua in sicurezza perfetto mi metto qua provo andare io questo perché sta fermo non ho capito non ho capito io pare semplice qua vai non pare difficile va così ecco perché vai dai se io facevo wow fatto mille mille non me però questo qua non è stato facile diciamo la verità vai io direi che se c'avevo la corona non ci era stato molto facile è solo che qualcuno ci ha fatto male tutte e due però per fattura c'è un fungo magari la troverai c'è un fungo 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 vedi ora ci sarà sicuramente di inseguire quel personaggio io per fattura c'è il fuoco mi hai rubato le cose a cui tengo mi hai rubato le cose a cui tengo ho sentito solo mi hai rubato le cose a cui tengo è andata a mettersi no nel primo schema dai se ci va andiamo lì altrimenti continuiamo no è raffezionata a quelle cose ah non è il momento di bigallonare in giro si è diretto verso la piana delle ghiande oh quasi mi dimenticavo i tubi sono il mezzo di trasporto migliore quando hai fretta ah guarda qua cosa ci ha scoperto questo allegro tot basta che entri nel tubo e nella scocciatoia per tornare a piana delle ghiande ma se noi facciamo un altro paese non ci fa andare eh no solo quelli che hai già fatto ecco qua abbiamo praticamente rubaconiglio si chiama quello come si chiama rubaconiglia? rubaconiglio dobbiamo seguire il rubaconiglio vabbè prima schema dai allora prendi il rubaconiglio dai andiamo 3 2 1 ecco perchè si chiama rubaconiglio ecco perchè si chiama rubaconiglio vai a prendere il rubaconiglio usa la velocità altrimenti è impossibile hai preso il rubaconiglio hai recuperato il mal tolto grazie un milione un milione ecco prendi questo che sarebbe? ah quello è rarissimo trovarlo veramente? è rarissimo quasi tutte le volte non si trova cosa serve? è praticamente una castagna con il volo infinito ah perfetto dai prendiamo la scorciatoia e riandiamo al deserto delle torte quindi adesso possiamo andare anche alla ricompensa del fungo abbiamo due ricompensi? eh si adesso decidiamo veramente ce ne avremo quattro ricompensi perchè anche allora scegliete un blocco per ricevere un oggetto al suo interno ora mescoli i blocchi quindi fate attenzione non vorrete mica scegliere browser? allora se ci sono due boyser si chiami boyser infatti inseguimi boyser ok 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 sono un'opportunità non state sfortunati da avrete ai tanti colpi che ho appena tocchi è la finale qui dovevano andare a destra e a sinistra andiamo a destra così volerà come si dice quella la chi dica proviamo a ghiacciarlo scompare la fiamma è logicamente così nella vita qua ci sarebbe voluto lo Yoshi sono davvero scarsa capiamo forse qua c'è un tubo cosa è? c'è un drago gli occhi non c'è un drago gli occhi non ti senti questo è un drago così fa la luce ah è le cose vedi? è un drago gli occhi saltellando così guarda il drago gli occhi se lo mangi guarda gli occhi se lo mangi è un drago gli occhi non mi può saltare questo è solo lì con lì lì io sempre prendi ok prendiamo la banderina io la prendi da stavolta io ho perso i dragognoli rago ok andiamo dai qua? no un altro diacorotti no non ero nello io si mangia tutto si mangia tutto carnivolo molto carnivolo poi magari c'è no neanche qua vai magari mi da una stella una cosa la meglio si infatti sono la principessa che ti augo io ci sai che sei molto carina poi è la principessa siamo due coppie per noi ah è poco si se lo mangia si mangia tutto io tenta ah guarda cosa fa così però ah è più planare tenta è meglio è meglio è meglio la principessa che dragogliosi tenta sei dietro di te sai sempre dire più meglio? si si cercare di andare lì incontro questa qui forse faccio così vai io ah non lo sai cos'ho scoperto? cosa? quando io c'ho piccolino non puo nulla quanto a parte di programma ok dai abbiamo aprito schermo vieni vieni veloce vabbè è stato abbastanza semplice ho pure ricevuto il allora vai a fare la banderina massima dovete sei qua ok si io faccio sempre la banderina massima perfetto hai un altro schema completato che bella lei fa così ehi che c'è? ci riusci che ci aspetta? no non è ah c'è un scrigno guarda ecco una ricompensa adeguata oh meno male dai oh che bello per la fatica che abbiamo fatto mi ha dato un fiorellino ghiacciato un fiorellino glaciale adesso c'è il castello il castello del boss intermedio proprio a momento giusto ecco qua se non mi ricordo nella volta scorsa tu potevi ghiacciare il boss per un secondo ok sempre faccio io ok R adesso vado io no ho capito allora io rimango qua giro questa qua ecco questa monettina andiamo perfetto io prendo pure il salvo adesso non dove si va si entrerà qua nel tubo la principessa si insomma eh quelle no perché? ghiacciali non ci vado io là vai tu ehi 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 capi questo non si può scegliere? si che si potrà ghiacciare papino non mi fai vedere sotto con si si ghiacciano ma come tutti con capito? con quei tasti là lo lanci ma cliccali papino non mi fai vedere eh ma se non vedo dove vado come ci posso fare? no ah forse qua c'è un passaggio segreto spesso eh no andiamo mi sono detto una bella testata qua ci vuoi tu io non ci vado ah aspetta no 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 si ti ho ucciso tutto ok arrivi qua vai tu ah serve qualcuno che sta qua papà vieni 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 con me perché non veda vieni stai qua e devi schiacciare rrrrrrr ok quando ci dita ora sai che dobbiamo farle due volte no 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 ora vai eh una volta a salire sopra sono quello che ci vuole ok non ce la faccio no no la deve se ci vuole c'è altro metodo ah forse ho capito eh no non ci vuole essere aspetta aspetta ho capito vai r pure a metà r r r a metà no no troppo r troppo bass eh qua deve arrivare il buco o qua deve arrivare qua qua ah si si ho scoperto hai scoperto? si ho scoperto eh 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 h eh 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 ah ah eh però io ho scoperto è il modio per fare mi serviva queste una tirata ehi eh bambini non lo butto faccio fai vi bolla se non faccio così vai tu non ci vado io volevo saltarci sempre per arrivare qua io adesso c'è un passaggio per me senta che ti schiaccia no non c'era un passaggio per me forse lascia qualcosa aspetta papi no che c'è aspetta e qua c'è qualcosa no mi sa che là c'è proprio Boiser perfetto eccoci ma l'altro è un segreto qua partirei di sicuro a boss no neanche lo faccio io cosa ho visto cosa è successo no no lo no no al fin papà però è succede 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 Think ma fa questo è un po' più di meglio ma questa che vuole che fa? un po' di lì 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 brava lì esserci tu tu sei in bolla però cerca di non fatti cortina non ci puoi andare guarda che fortuna sono compasso proprio sempre povero amari che poco di coppio oh dai perfetto ci possiamo andare così salutiamo tutti dai allora facciamo solo questo per voi qua ci abbiamo addirittura abbiamo due funghi da visitare vabbè facciamo solo questo per voi oh il cazzo della principessa guarda che succede? che sennò io la principessa cosa ha fatto? forse se lo portano via no non ti è succedendo niente non è successo ma non sono ristrutturato si adesso andiamo al no papà che fai? questo punto l'abbiamo visitato perché ancora è tutto intero voglio andare a vedere allora lo possiamo visitare cioè abbiamo tre punti da visitare ma magari ci dà un'altra chance allora quello centrale il monellino che non dobbiamo tolcare allora è andato lì è andato lì io so prendere il moneinello ok quella c'entro no eh si si lo so questa e poi l'altra te benissimo benissimo stavolta ci abbiamo un fungo e due funghi ci abbiamo nella cartella e due stelle ci abbiamo delle cose molto rare ci abbiamo tre nel fungo ok Mariana abbiamo finito salutiamo tutti a casa comunque ragazzi ci fermiamo qua per oggi è tutto iscrivetevi al canale cliccate la campanellina e ci vediamo al prossimo video ciao ciao